abbiamo finalmente i 26 nomi che parteciperanno ad euro 2024 fino ad oggi non mi ero mai espresso sulla nazionale perché appunto attendevo questo momento attendevo il momento in cui spalletti avrebbe deciso le sorti dei giocatori e no gli interpreti da portare con lui ad euro 2024 e off cam e quindi parlando con amici conoscenti insomma li ho presi tutti era scontato sì però li ho presi tutti a maggior ragione dopo aver visto la partita dell'altro giorno contro la la turchia perché ci ha dato un po l'idea e la dimensione di quello che può essere l'italia un'italia che spalletti probabilmente avrebbe voluto tantissimo far giocare a quattro ma che probabilmente per caratteristiche anche per scelte prese così non sarà nel senso che io credo che con il blocco inter soprattutto spalletti alla fine si sia deciso per una per una difesa 3 non ha portato orsolini che era l'unico uomo di fascia alla destra mancino puro dopo l'infortunio di berardi che comunque sarà assente per tanto tempo dai campi di gioco dopo il brutto infortunio insomma un'italia che si appresterà ad affrontare euro 2024 con una difesa a 3 non è inedita per spalletti che è stato un po no il fautore dei braccetti di difesa soprattutto in italia lo ha fatto con la roma insomma è un modulo che lui apprezza e dagli interpreti giusti probabilmente per per poterci giocare sono stati eliminati dalla lista provetel che secondo me è ingiusto parecchio ingiusto non portare provetel a discapio di umerette che ha giocato una stagione non brillante è vero che gode della fiducia di spalletti che lo conosce dai tempi di napoli però io avrei preso scelte assolutissimamente differenti perché provetel si è meritato sul campo nonostante l'infortunio soprattutto da quando è arrivato alla lazio di meritarsi questa esperienza come terzo ovviamente perché davanti ci sono due portieri di assoluto valore come vicario e donna rumma però provetel per quello che ha fatto no in in questi anni di lazio secondo me avrebbe meritato questa esperienza magari per il mondiale del 2026 se l'italia si qualificherà perché a questo punto bisogna anche pensarla un po così sicuramente ci sarà perché è un portiere che che merita che meritava questa questa grande opportunità c'è un meret acciaccato e quindi provetel si allenerà comunque fino al 20 che è l'ultima data disponibile per poter cambiare dei giocatori all'interno della lista e e poi niente ragazzi si 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 vedrà si vedrà quello che quello che sarà altro escluso samuel ricci questo era abbastanza scontato viste anche le parole no che aveva destinato il tecnico a niccolò fagioli e a michael foro ruscio fagioli era inutile portarlo tra i pre convocati se poi non avevi l'idea no di convocarlo però per euro 2024 stessa cosa per michael foro ruscio che è un giocatore è il giocatore alla spalletti per eccellenza sono super contento che faccia parte di questa spedizione perché è un ragazzo che si è meritato tutto quello che ha ottenuto avrà lottato in questi giorni per meritarsi la convocazione spalletti secondo me nella sua testa già lo aveva perché è un giocatore di gamba come ha detto è un giocatore che vive di uno contro uno vive di scontro fisico vive di inserimento è bravo palla al piede ma è bravo anche a rincorrere ed è perfetto per quanto mi riguarda per per quello che vuole proporre spalletti con la sua nazionale e poi samuel ricci insomma si ha giocato una buona stagione col torino però secondo me non non faceva parte nelle idee di spalletti di quelli che potevano essere i giocatori per euro 2024 nonostante sia secondo me un giocatore di assoluto livello che però secondo me non è ancora pronto per questa per questa per questa spedizione per questa per questo europeo per questa esperienza mi è dispiaciuto molto per riccardo orsolini io credo che sia stato più una scelta tattica già dalla non pre convocazione di politano qualcosa ci dovevamo aspettare ragazzi perché comunque non convocare non pre convocare politano che è stato diciamo uno dei più positivi della stagione disastrosa del napoli un dubbio me lo aveva già fatto venire ha scelto ovviamente il sharawi e zaccagni perché uno per per la duttilità di el sharawi ero sicuro al cento per cento che lo portasse avevo dei dubbi su zaccagni soprattutto perché non ha vissuto una stagione clamorosa però può giocare nei due dietro la punta molto più facilmente di orsolini che secondo me è un uomo di fascia mi dispiace per orsolini perché dopo una stagione del genere dopo aver raggiunto la champions con il bologna avrebbe meritato questo questa esperienza in più però a tempo c'è sempre da portare al mondiale vediamo quali giocatori usciranno quali giocatori saranno poi nelle idee di spalletti insomma questo è anche un test ad alto livello per vedere a che punto è la nazionale di spalletti e quindi questi i tre esclusi provvedel ricci e orsolini davanti ovviamente confermati tutti alla fine ripeto dopo fornuscio anche bellanova si è assolutamente dimostrato valido e anche da queste scelte si capisce un pochino che può esserci no un molto facilmente un centrocampo a tre e quindi un o un 3 4 2 1 oppure un 3 5 2 puro anche se io credo più al 3 4 2 1 perché chiesa avendo giocato anche più centrale nonostante non sia la sua posizione ideale però può giocare in quel ruolo può essere modificato in un 3 4 3 magari con chiesa a destra e zaccagno del sharaqui a sinistra possono giocare le due punte retegui e scamacca con raspatori che è un altro di quegli uomini che può orbitare dietro la punta secondo me lui lo vede più lì tra i due dietro ovviamente scamacca e poi speriamo e confidiamo in scamacca ragazzi che ha segnato ieri nell'amichevole contro contro l'under 21 uno scamacca che è assolutissimamente in un momento d'oro ed è ed è e deve essere il trascinatore della nazionale bisognerà vedere se lui o retegui partirà per primo allora di retegui sicuramente apprezzo tantissimo una cosa il killer istit cioè lui è un attaccante puro che vive per il gol nel senso che è quel giocatore che anche quest'anno a genova ha dimostrato che nonostante non gli arrivassero tantissimi palloni giocabili quelli che gli arrivavano riusciva sempre a trasformarli in occasioni potenziali o in gol perché ha il fiuto cioè vede la porta sa dove la porta scamacca invece deve essere il trascinatore fisico emotivo di questa nazionale molti sono stati un po scandalizzati da quelli che erano stati preconvocati io invece ci vedo una logica dietro molto importante spalletti non è l'ultimo arrivato secondo me ha fatto delle valutazioni importanti ha scelto dei giocatori anche per la duttilità è una competizione che comunque si gioca in maniera fitta è un mese dove si possono giocare tante partite ha un girone tosto da affrontare dove servirà tanta gamba oltre che tanta tecnica e tanta capacità di fare gol secondo me sono giuste magari sarò impopolare però anche perché il parco giocatori questo gli permette e quindi io penso che insomma dobbiamo vivere sereni quando abbiamo diciamo un allenatore come spalletti in panchina che può sbagliare però ha fatto come ha detto anche nella conferenza stampa post no italia turchia un richiamo di preparazione quindi un po di imballaggio all'interno delle gambe dei giocatori ci sta però io credo che arriveremo pronti per euro 2024 credo che abbiamo la voglia giusta anche perché insomma siamo i campioni in carica dell'europeo ci sono nazionali sicuramente molto forti basti pensare alla francia al portogallo e quest'anno io ci metto anche l'inghilterra però siamo pronti a viverlo a viverlo con grande passione con grande emozione dobbiamo innamorarci della nazionale io vedo che c'è sempre poco interesse nei confronti dell'italia invece non deve essere così sono contento ovviamente per riccardo calafiori che si è meritato tutto questo europeo sono contento uno perché è stato un giocatore che è stato mandato via troppo facilmente dalla dalla roma e due perché è un giocatore di straordinaria potenzialità tecnica qualità che sono sicuro che se sarà chiamato in causa farà benissimo io credo che nell'idea di spalletti la formazione tipo sia donna rumba in porta con il più possibile giocatori dell'inter dietro quindi mi immagino darmian bastoni e magari un buongiorno o mancini al centro della difesa barella giorginio e secondo me uno tra pellegrini e frattesi con di marco e di lorenzo sugli out o anche di lorenzo scalato basso con la possibilità di vedere bellanova a tutta fascia e davanti se pellegrini viene visto come uomo più avanti chiesa pellegrini e uno tra retechi e scamacca o comunque qualcosa del del genere scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate dei 26 convocati cosa vi aspettate dall'italia in questo euro 2024 forza azzurri adesso ci saranno un altro paio di amichevoli sicuramente una contro la bosnia che si giocherà tra pochi giorni e poi tutti pronti e focussati ovviamente su euro 2024 che si giocherà in germania se ci saranno altri aggiornamenti ovviamente di calcio mercato ne parleremo per questo video tutto dal vostro andrea un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video forza azzurri forza italia